Mi trovo Lido Saraceni di Ortona, spiaggia libera, adiacente allo stabilimento Acapulco, in compagnia con alcuni soci del Rotary Club Ortona, precisamente con il nuovo presidente, Tommaso Dideo, e in compagnia della dottoressa Primavera, presidente uscente. Oggi abbiamo qui questa sedia. Tommaso, ci puoi spiegare di che cosa si tratta? Ma questo è un progetto portato avanti nell'annata della presidente Adelina Primavera ed è per essere di sostegno a quelle che sono le disabilità presenti nel territorio, con questa sedia che è facilmente trasportabile fino alla riva del mare. Con la dottoressa possiamo spiegare ancora meglio perché è il suo settore e quindi può spiegare cosa può dare la possibilità a questa sedia ai ragazzi non abili. Questo è un progetto ideato e programmato per l'annata 2021-2022 in occasione del quarantesimo anniversario del club, della fondazione del club di Ortona. Abbiamo voluto fortemente questo progetto perché siamo sensibili i Rotary da sempre, accoglie il principio della diversità del DE, diversità, equità e inclusione, quindi a favore della valorizzazione delle diversità e il rispetto della diversità. Abbiamo acquistato due carrozzine per persone che hanno difficoltà motorie e di diambulazione, quindi persone diversamente abili ma anche gli anziani, attraverso una raccolta fondi mediante un torneo di burraco solidale che si è svolto il 17 giugno scorso e quindi se le persone sono venute a giocare a burraco abbiamo avuto diversi sponsor e siamo arrivati quindi all'acquisto di queste due carrozzine. Queste carrozzine permettono e consentono alle persone di qui sopra di accedere facilmente in un ambiente, diciamo alla balneazione, quindi in spiaggia ma anche in acqua, quindi e promuove anche la sensibilizzazione contro le barriere sociali che sono purtroppo ancora presenti riguardo insomma la diversità e le disabilità. In questo momento anche l'assessore Paola Di Sipio che da poco è nella nuova giunta comunale per le politiche sociali. Però prima di arrivare all'assessore volevo parlare con il segretario, il signor Lelio Del Re, che ci spiega innanzitutto come si chiama questa sedia perché so che c'ha un nome e tutto quello che effettivamente a chi viene donato, come verrà utilizzato, forse è meglio. Sì, grazie. Si chiama Job, c'è una sigla, Iota Oscar Bravo, però viene dal napoletano, giustamente, che parte da una frase, iamma o bagno e quindi sembra che sia inglese ma è semplicemente un'idea nata in campagna e d'altronde molte industrie sono nate che forniscono questo attrezzo. Una sedia particolare permette appunto di superare la sabbia, dobbiamo ancora un po' sperimentare, e poi di entrare in acqua e permettere al diversamente abile di potersi bagnare. Noi siamo a una prima fase, almeno io mi sono un po' occupato di questo progetto e ora ci siamo non inventati ma daremo incomodato d'uso a due stabilimenti balneari, uno del Lido Riccio che è vicinissimo, diciamo, l'Acapulco a questa pedana che permette appunto, come dice anche il cartello, di poter essere utilizzato dai diversamente abili. Poi lo daremo a un altro Lido, al Lido Riccio, appunto la seconda sedia. Poi molto probabilmente riusciremo poi a proprio a donare a un ente che poi dovrà manutenerle, le dovrà poi gestire in futuro e assegnarle sempre ai due Lidi o a stabilimenti o comunque a un'associazione che poi con appositi volontari andrà a utilizzarle nel miglior modo possibile. Ed ecco, passo subito la parola all'assessore, al neoassessore, alle politiche sociali. Oggi è una bellissima giornata, questo è un gesto che il Rotary Club Ortona fa e anche rivolto a voi della Giunta Comunale per spronarvi a fare tante altre cose. So che è un po' presto fare, chiedere o altro, però diciamo nel vostro intento cosa ci sarà nel futuro? Allora, prima di tutto ringrazio il Rotary e sono felicissima di iniziare oggi il mio mandato in fondo con il primo evento all'esterno, con un evento molto importante perché questa poltrona speciale ha una valenza duplice, cioè una valenza concreta che è quella di consentire diversamente abili di poter fare il bagno, di avere accesso alla spiaggia, ma ha una valenza anche un po' più alta perché consente, è un primo passo importante per superare dei ponti e per creare dei collegamenti. Lavorare nel sociale in fondo è questo e quindi rinnovo il mio impegno personale e l'impegno di tutta l'amministrazione a fare in modo che si creino dei collegamenti, che si creino dei ponti per la disabilità e non solo perché è soltanto con un lavoro di rete, è soltanto con il lavoro in collaborazione con il terzo settore che come amministrazione potremo fare qualcosa. Quindi oggi è la pietra migliare per fare qualcosa per persone diversamente abili. Il nuovo presidente del Rotary Club, Ortona, ha altri progetti per il futuro? Sì, sicuramente. C'è in cantiere un discorso di fare dell'affabetizzazione con gli immigrati, con l'ufficio del comune, probabilmente anche insieme al comune di Tollo. Porteremo avanti questa iniziativa fornendo noi le persone idonee a insegnare e così sarà il primo progetto in partenza quest'anno. Ma sicuramente non ci fermeremo come Rotary. Tutti gli anni si farà qualche cosa ed è un piacere comunque farlo. E quindi benvenga per Ortona, benvenuto Job. Alla dottoressa ringrazio tantissimo perché è uno splendido progetto. Qualche battuta, visto che lei ha lasciato lo scettro a Tommaso? Ho lasciato lo scettro a una persona fantastica che sicuramente porterà avanti i valori del Rotary. Sono sicura, insomma, la continuità sarà sicuramente garantita. Quindi grazie. Grazie e buon lavoro. Grazie. Ed ecco incontriamo il proprietario dello stabilimento Capulco Lido Saraceni in cui oggi con la dottoressa Primavera possiamo dire che è l'atto di consegna di comodato d'uso. Nicola, dici tutto. Perfetto. È un'iniziativa, quantomeno, utile, utilissima per la collettività in quanto sappiamo che ne usufriranno disabili ai quali bisogna dedicare particolare attenzione e io mi faccio promotore per quanto riguarda questa iniziativa nel custodire e gestire questo utilizzo di questa sediolina Job i quali disabili potranno soffrire per entrare in acqua e con una maggior facilità. Sei onorato di questa sediolina? Sì, sono onorato, è una bella iniziativa, sì, e siamo vicini alla categoria in quanto diciamo che sono un po' più sfortunati e bisogna dedicargli particolare attenzione. Ecco questo dico. Ma tu hai fatto caso, Nicola, più o meno i colori del tuo stabilimento a questa sediolina, è vero? Sono dei colori molto accesi, vivi, che danno gioia. Esatto, e quindi ci auguriamo che questo... Che possa essere utilizzato in modo giusto e con particolare attenzione da parte degli utenti che ne hanno bisogno. Grazie. Prego, a voi. Grazie. Grazie. Grazie.